Gerardo Arpino in Prefettura con l'incontro di oggi si è stabilito che susseguiranno ulteriori incontri in vista della riapertura delle scuole ma sicuramente ci sono dei punti fermi, bisogna garantire il distanziamento, bisogna evitare affollamenti e per fare questo una delle soluzioni sicuramente più praticabile è quella di rendere l'ingresso a scuola dei ragazzi in maniera differenziata. Sì, oggi abbiamo avuto un incontro in Prefettura, un incontro richiesto da tutte le organizzazioni sindacali perché preoccupate sia del continuo e costante sovraffollamento all'interno del trasporto pubblico locale ma soprattutto preoccupate per l'avvio dell'anno scolastico e accademico che ormai è alle porte. Ci sono a livello nazionale degli incontri che si sono svolti sia il 24 che il 26, ci sono ancora incontri che si devono susseguire che dovranno demandare delle linee guida da applicare anche sui territori così da garantire una diminuzione di difficoltà però per noi è importante adeguare il trasporto pubblico locale ai tempi scuola perché riteniamo che non si può pensare di iniziare un anno scolastico con un ingresso non contingentato e non suddiviso degli orari scolastici. Semplicisticamente verrebbe di dire una soluzione è quella di aumentare le corse e aumentare i mezzi a disposizione. Sì però questo è semplice però non fattibile perché sappiamo che i chilometri che ci vengono dati dal governo centrale sono sempre gli stessi suddivisi su un territorio che come provincia di Salerno è uno tra i più vasti che c'è pertanto andremmo a coprire una zona e scoprirne un'altra invece in questo modo si può tentare come parlano anche un po' questi come è venuto fuori da questi incontri nazionali e come ha anche ribadito il presidente della quarta commissione dei trasporti oggi al tavolo di immaginare l'utilizzo e il rafforzamento delle linee con gli NCC quindi con il conducente dati e prestati alle aziende così da poter aumentare il servizio ma comunque in ogni caso aumentare sicuramente i posti all'interno degli autobus con del separatore di materiale non plexica perché è pericoloso ma comunque un materiale tale che consenta la non dannosità a chi viene trasportato e poi come ho dibattito prima c'è la necessità che devono essere differenziati gli orari di ingresso all'interno delle scuole grazie mille grazie mille